Abbiamo presentato il progetto Lakedu, un progetto di mediazione culturale dedicato al pubblico di tutta l'età e inclusivo. Abbiamo attività quasi 200 all'anno dedicate da bambini di un anno fino ai 99 anni, ma anche progetti proprio specializzati nell'accoglienza di persone con demenza, con disabilità e dunque abbiamo diverse proposte. Lavoriamo con questi differenti gruppi del territorio sia nel Museo d'Arte della Svizzera italiana che negli spettacoli, per gli spettacoli e per i concerti. Proviamo a accoglierli in tutte le nostre attività e adeguare la comunicazione e l'accoglienza per fare di modo che si sintano a loro agio e ritornano. Noi notiamo poi empiricamente per ora che c'è un beneficio. Avevamo un'attività arte, musica e poesia, vedevamo le persone arrivare sta anche tristi e andare via visibilmente rigenerate. Ecco, non avevamo momenti di analisi tranne che per un progetto specifico che si chiama Scintille che oggi sarà anche presentato nel forum, dunque dedicato a persone con Alzheimer e lì davvero era visibilmente reale e palpabile il fatto che queste persone in quel momento durante l'attività al museo con la musica stessero bene, comunicassero di più, si attivasse una rete sociale fra di loro. Dunque vogliamo andare avanti magari con questo progetto Cultura e Salute per usare quello che abbiamo poi imparato nel forum oggi e procedere nel modo corretto già vedendo quello che è stato fatto in luoghi in cui questo ambito è già sviluppato.